Tornare a fare politica al più presto e al fianco dei cittadini, che sono attanaiati dai problemi dati prima dal Covid, poi dalla crisi economica generata dalla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Stop ai governi tecnici, serve una politica e serve partire dai territori. Questo l'appello di Clemente Mastella, che questa mattina da Roma ha presentato la Segreteria Nazionale e Regionale di Noi di Centro. Noi dobbiamo tornare anche alla politica come tale, occupare spazi territoriali dove nel territorio è franata la interlocuzione tra i partiti che oggi sono distanti dal cuore della gente e i problemi che la gente ha. Dal Segretario Nazionale di Noi di Centro anche le prime proposte programmatiche economiche. Non bisogna sempre dire di no, ma vagliare le proposte di sviluppo che arrivano, a partire dalle rinnovabili. E le paleoliche diciamo noi. Tutto no. Non è possibile dire no. Non si governa dicendo no. E noi ai rifiuti sotto casa, messe in opera delle strutture per quanto riguarda queste. E noi diciamo alle oli, noi a tutto. Dopodiché ci siamo in questa condizione. Ora un conto è essere attenti, come giusto che sia.